Ciao a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata di Belluno Calcio in Rete. Con la prima squadra impegnata sul difficile campo di Fontana Fredda, noi ci siamo occupati invece di settore giovanile. In particolare della categoria allievi, intervistando il mister William Gobbato e Davide Canova, che nonostante ormai sia una presenza fissa in prima squadra sarebbe ancora in età per gli allievi. Infine abbiamo sentito il secondo di mister vecchiato, Ivan Darizza, che ci ha spiegato un po' questi suoi primi due mesi qui a Belluno e ci ha fatto un po' vedere di cosa si occupa e quello che cerca di insegnare soprattutto ai ragazzi più giovani. Io vi lascio quindi alle immagini e alle interviste che abbiamo raccolto. Qui vicino a me William Gobbato, mister degli allievi elite. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Vi ricordiamo che per i pochi che non lo sapessero, William Gobbato è stato una delle bandiere giallo-blu per quattro anni, soprattutto uno degli artefici della storica promozione in Serie C2. Com'è stato William questo ritorno a Belluno? Niente, è stato un ritorno importante per me dopo quattro anni stupendi qua a Belluno. Mi hanno dato ad allenare gli allievi elite e per me è un grosso onore. Antonio Tormen, quando appena è arrivato a Belluno, non ha stravolto un po' l'assetto, ha sprutto degli uomini di questo settore giovanile, ha fatto solo una richiesta. William Gobbato, perché scontate tutto questo? Beh, io il mister Tormen lo conosco appunto perché abbiamo fatto due anni e mezzo assieme qui a Belluno e credo mi conosca oltre come tecnico, anche come persona, come uomo. Vuoi magari farci un po' un piccolo riassunto dei tuoi quattro anni qua a Belluno, magari qualche parola in più sull'anno della storica promozione in C2 e già un po' della partita storica da qui col Bassano vinta per 4-1? Beh, è stato un anno senza nessuna discussione, nel senso che in casa praticamente abbiamo vinto tutte e c'è il mister Tormen che sa tutti i risultati. Io so che siamo arrivati qua con la penultima partita col Bassano, abbiamo raccolto, sono venuti a vederci 4.000 persone e penso che per Belluno è stata una giornata importante. Parliamo invece adesso del tuo nuovo ruolo qui a Belluno come mister degli allievi elite. Le prime sensazioni dopo queste prime giornate di campionato, quali sono? Beh, sto affrontando, stanno affrontando, sto affrontando con i miei ragazzi un campionato difficile, importante, è un gruppo valido di qualità e c'è tanto da lavorare sicuramente per fare i risultati, anche perché ci sono le retrocessioni, è un campionato importante, stiamo lavorando bene, comunque i ragazzi sono di qualità e mi vengono dietro per il momento. Qualche allievo si allena già con la prima squadra, ma c'è qualcuno secondo te che un domani potrà essere un giocatore da prima squadra? Beh, guarda, ho degli elementi di qualità, adesso non è che scendo a dire chi sono e chi non sono, però 3-4 secondo me hanno le qualità importanti, si lavorano bene quest'anno per il prossimo anno per entrare nella rosa di 23 della prima squadra. Quando sei arrivato qui a Belluno che settore giovanile hai trovato e cosa vuole portare a Belluno William Gobato? Beh, non è che invento niente, io porto solo la mia esperienza da calciatore degli anni che ho passato e cerco di trasmettere i miei valori ai ragazzi che ho quest'anno. Quindi, diciamo, i valori che tu vuoi portare, quali sono, oltre naturalmente, agli aspetti tecnici? Beh, soprattutto i valori umani, di comportamento, di educazione, che sono le basi secondo me fondamentali per la crescita di un giocatore. A livello sportivo invece di risultati, se la società ti ha chiesto qualcosa oppure si vedrà a strada facendo cosa si raccoglierà? No, allora, l'obiettivo di quest'anno è quello di salvarsi perché, ripeto, è un campionato importante e duro perché ci sono squadre molto forti. Un altro obiettivo che mi hanno chiesto è appunto di valorizzare due o tre giovani perché il prossimo anno siano dentro nella rosa di 23 della prima squadra. Facendo questa cosa qua, secondo me, abbiamo già fatto tanto. Un'ultima cosa, quando magari ci ritroveremo ad aprile, cosa ti piacerebbe che fosse successo, insomma, in questo campionato? Beh, quello di essersi salvati, soprattutto, perché è il primo nostro obiettivo, dopo quello, se viene qualcosa in più, meglio. E di far crescere i ragazzi, di farli vedere crescere, di vedere qualcuno che arrivi proprio in prima squadra. Questo per me sarebbe una situazione incredibile. Un'ultima domanda ad obbligo, visto che tu sei stato anche capitano di questa prima squadra, come vedi il campionato della squadra di Mister Ovecchiato? Beh, è da tanti anni che non seguo più la Serie D, però so che è un campionato difficile. Loro sono partiti bene, questo è importante, hanno entusiasmo. So che si sono anche rafforzati dall'anno scorso, quindi, secondo me, faranno un campionato al vertice fino alla fine. È un campionato duro e siamo all'inizio, però, secondo me, sono sulla strada giusta. Qui vicino a me è una delle grandi rivelazioni, fino a questo momento, dell'Italenti Belluno. Il giovane Davide Canova, classe 98. Grazie di essere qua con noi. Davide, questi primi mesi all'Italenti Belluno, ricordiamo che Davide sarebbe ancora in età per fare gli allievi. Abbiamo visto, insomma, le sue doti, le sue qualità, è stato aggregato alla prima squadra. Com'è stato questo primo approccio in prima squadra? Molto dura, perché si cambiano i ritmi. Poi all'inizio ho fatto molta fatica ad ambientarmi, perché ci sono molti ritmi elevati. Però, pian piano, allenandomi bene, impegnandomi sempre, ho iniziato ad abituarmi un po' ai ritmi della prima squadra. Cosa ti piace soprattutto di questo gruppo, anche a livello di spogliatoio? Chi è magari che ti dà più una mano, visto che comunque, essendo giovane, hai sicuramente bisogno di qualche consiglio? Sono quasi tutti che mi danno una mano, nel senso anche i vecchi e anche i giovani. Mi danno sempre una mano, mi consegnano sempre il giusto. È quello che è sempre meglio fare se sono in difficoltà e così. Un po' il sogno di Davide Canova qual è? Sicuramente in prima squadra ha già debuttato, quindi questo sogno si è avverato. Il secondo invece qual è? Il secondo è di magari arrivare in una società professionistica o giocare anche in Serie A, magari andando avanti, se vengo chiamato da qualche società professionistica è bene. Si riesce a conciliare abbastanza bene l'impegno della scuola con quello del calcio? La scuola è appena iniziata, ma secondo te riuscirai a portare avanti questo impegno tutto l'anno? Per il momento è bene, poi vedremo andando avanti se ci saranno problemi, ma mi impegnerò al massimo sia a scuola che a calcio, anche se perdisco più il calcio dalla scuola. Perfetto, allora in bocca al lupo Davide, speriamo che il tuo secondo sogno si possa realizzare presto. Grazie mille. Ivan Darizze, intanto grazie di aver accettato il nostro invito. Ivan è il secondo di Mister Vecchiato e ormai due mesi qui a Belluno. Come sono trascorsi questi primi due mesi qua a Belluno? Sono volati, mi sto divertendo tanto. E' bello perché ha fatto un passaggio traumatico dal calciatore al natore, invece l'esperienza è assolutamente positiva fino adesso. Anche i risultati stanno dando ragione a te e a Mister Vecchiato. Ti cedi magari di dire due cose su questo inizio di stagione? La squadra è sicuramente forte, si vede che c'è un gruppo che è partito l'anno scorso, quindi sta proseguendo il lavoro dell'anno scorso con entusiasmo, che ha però sempre voglia di migliorare, quindi sono assolutamente ottimista e spero che continueremo così, su questa strada. Ricordiamo, si può sempre dire l'età di un uomo, Ivan ha solo 32 anni, come ci si sente a farsi chiamare Mister ancora così giovani? E' strano, però devo ringraziare i ragazzi perché grazie a loro mi ha fatto passare la voglia di giocare, nel senso che vengo volentieri al campo e mi fanno star bene, quindi hanno reso il passaggio meno traumatico. Ti manca ogni tanto un po' l'indossare i 13 la domenica? Beh, giocare è sempre la parte più bella, però va bene così, ormai abbiamo preso questa decisione, sono contento di averla presa lei. Le immagini che stiamo trasmettendo, si vede Ivan che sta insegnando a due giovani calciatori della Rosa, Danny Paganin e Davide Canova, alcuni schemi, sei un po' il punto di riferimento per i più giovani? Sono loro che hanno voglia di imparare, quindi ogni tanto mi chiedono di rimanere un po' di più, io sono contento di restare perché mi piace stare sul campo, quindi se posso dargli una mano volentieri. Un'ultima cosa, come vedi questa stagione dell'Italenti Belluno? In questo momento siamo in testa, però il futuro cosa prevede secondo te? Il futuro è fontana fredda stasettimana, quindi andiamo avanti così, settimana per settimana, non so dove possiamo arrivare, tutti dicono che Marano e Padova sono più forti, proviamo a vincere tutte, come abbiamo sempre detto, dalle amichevoli alla Coppa al campionato, poi dove arriveremo vediamo, arriveremo sicuramente dove possiamo arrivare. Anche Ivan è bellunese come gran parte ormai di questa squadra, ti sei ambientato bene anche questa bellunesità che comunque l'Italenti Belluno continua a portare avanti ormai da qualche anno, secondo te è un punto su cui ripartire anche per il futuro? No, assolutamente, è un valore aggiunto, poi il fatto che tanti ragazzi si conoscono e mantengano dei rapporti anche fuori dal campo per tanti anni, sicuramente è una forza di questa squadra e spero che ci sia la possibilità di continuare a farlo. Se dovessi dire un nome magari di un giovane che secondo te ha le capacità, le qualità per poter magari sfondare anche dopo Belluno, magari salire tra i professionisti, che nome faresti? Sicuramente siamo fortunati a vedere i giovani perché ne abbiamo tanti che possono migliorare e che hanno la voglia di migliorare soprattutto, che è fondamentale, quindi penso che Pescosta, Posoco, Canova per dirne tre, ma ce ne sono anche altri, se hanno la voglia di migliorarsi sicuramente possono ambire a categorie più importanti. Proprio in chiusura, nel futuro sportivo di Ivan Dariz si vede più allenatore dei giovanili o di una prima squadra? Ma non lo so, intanto sto vivendo questa esperienza qua quest'anno, volevo vedere se mi piaceva fare questo lavoro e se ero capace, alla fine dell'anno poi vediamo cosa avrà portato. Faremo le valutazioni. Faremo le valutazioni. Grazie mille. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Belluno Calcio in Rete dedicata quasi completamente al settore giovanile. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana dove ritorneremo a occuparci di prima squadra e in particolare della partita tra l'Italenti Belluno e l'Unione Tristina che vi ricordo sarà anticipata al sabato sempre alle ore 15. Io vi ringrazio e alla prossima puntata. iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.